Dito, allora c'è Ciccio, un bambino, fa mamma, ma quando si muore, che si diventa polvere? Dice sì, allora c'ho morto sotto il letto. No, no, questa faceva cacare, ne dico me. Allora c'è sempre Ciccio, cammina per la strada, dice babbo, ma le cureggie pesano? No, allora mi sono cacata. C'è un cavallo, vai al cinema, no? Sì, va alla biglietteria, dice mi fai un biglietto? Guarda un cavallo che parla, sì ma dentro sto zitto. Allora c'è un omino, no? Sentite? Allora c'è un omino, va al gabinetto, no? Perché gli scappa, sta morendo, no? Sì, va al gabinetto e per sbaglio entra nel bagno delle donne, no? Sì, è lì che la sta facendo, dice guardi che ha sbagliato, questo è per le donne, perché questo è per i chiedi. C'è un bambino, no? Va al dà il suo babbo, dice babbo, ma che differenza c'è tra, cioè, in teoria e in pratica? Dice madonna, come fa a dirglielo? Ah, ti fa un esempio. Te va dalla tua mamma e chiedigli, mamma per un milione che lo faresti in amore con Brad Pitt? Va bene, il bambino va dalla mamma e dice, mamma per un milione lo faresti in amore con Brad Pitt? Porca miseria, anche per 500.000. Che torna dai babbo? Dice, ha detto la mamma che per 500.000. Vedi? Ti spiego la differenza. In teoria sarebbe 500.000 euro, in pratica è la mamma troia. Bravo! Bravissimo! Il vettore di lavoro del nuovo governo dice, voglio andare a vedere come lavorano gli statali. Che chiama tre persone a caso prese da dei lavori statali, no? E li fa andare al ministero di lavoro. Allora dice, te dove lavori? Io lavoro sugli scambi delle ferrovie, sa contare? Certo, conta. Due, quattro, sei, otto e numeri dispari? Ma sai, gli scambi sono tutti pari. Io so contare solo con numeri pari. Va bene. Se dove lavori? Io alle poste. Sa contare? Certo, conta. Uno, tre, cinque, sette. Perché tutti i dispari? Perché lavoro dalla parte dei numeri dispari e gli pari o mi servono. Io so solo numeri dispari. Va bene. Dice, te dove lavori? Io ho un comune che sa contare? Certo. Conta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bravo, madonna. E poi? Jack, donna e regio. Allora c'è un bambino, lo va dai su, babbo, dice, babbo, oggi a scuola si parlava di alcolismo, alcolisti, no? Ma e che l'è un alcolista? Dice, un alcolista l'è uno che beve tanto alcol. E che succede quando uno beve tanto alcol? Ti fa un esempio. Li vedi che cattro gatti su qui muretto? Se tu fossi uno che beve tanto alcol, tu ne vedresti otto. Dice, babbo, ma son due. Bravo! E' vivo! Allora c'è uno che dice, madonna, gli voglio fare un regalo alla mia ragazza, gli voglio regalare un animale. Scrivano in un negozio dove vendano animali, no? E vede scritto, pappagalli che fanno le uova quadrate. Cazzo dice, quando lo voglio comprare uno? Se chi entra dentro e dice, ma che avete pappagalli che fanno le uova quadrate? Eh, per forza c'è scritto, dice. Ah, e quante costano? 500 euro. Porca miseria, 500 euro sono tanti. Ma fanno le uova quadrate. Ma che parlano anche? Certo. E che dicono? Noi, oi, oi, oi! Bravo! Grande Ale!